Sarà presentato domani sera alle 18 presso la sede in piazza Piccinato 10, la sede Arci di Civitavecchia, Saving Humans Mediterranea e Banca Etica a Civitavecchia per un grande progetto di rilevanza, potremmo dire senza ombre di dubbio, internazionale, un'attenzione mirata da parte delle ONG, ma non soltanto, anche dai governi, su questo progetto. Di che cosa si tratta Roberto Sanzolini? Grazie. Il progetto è relativamente semplice, si tratta di mettere a mare una barca che si chiama Mediterranea, quindi il nome del progetto è questo, che starà giù a pattugliare nelle aree vicino a Sicilia e Libia. Quello che sta succedendo, tenuto conto che ormai le ONG sono state mandate via, i porti bloccati, quindi non ci sono testimonianze di quello che sta avvenendo. E quindi noi abbiamo voluto fare un gesto, l'Arci ha promosso questo gesto insieme ad altre associazioni, per testimoniare una sorta di disobbedienza civile e, guarda caso, capita proprio nel momento che anche sindaci e tanti altri soggetti pubblici manifestano questa insofferenza a quello che sta succedendo in Italia sul tema dei migranti. È il decreto sicurezza, improbiamente chiamato sicurezza perché di fatto colpisce i migranti, che ha grandi dubbi di incostituzionalità, oltre che per noi è disumano, assolutamente inappropriato, e quindi si sta cercando anche una via di tipo legale, giuridica, attraverso la Corte Costituzionale perché venga dichiarata in Costituzionale, così come stanno chiedendo i sindaci che non intendono applicarle in alcune parti, laddove trasformerà dei richiedenti asilo in irregolari, con le ovvie conseguenze di creare ulteriori irregolari. Mediterranea vuole testimoniare appunto questa esigenza di distaccarsi, dissociarci, da quello che è in questo momento questa politica, affinché un giorno quando questo tempo sarà passato si potrà dire che noi non eravamo d'accordo, e questo è il senso di questa. Quindi l'inizio di domani è perché anche in questa nostra città si possa testimoniare un'iniziativa. Abbiamo molte adesioni anche di personalità politiche, di altre associazioni, e vorremmo, la nostra ambizione è che da qui si cominci a muovere anche un'ondata popolare, perché poi il popolo non è assolutamente in linea con quello che predica il governo, o peggio, questo personaggio tristo. Allora si tratta di un momento molto difficile che naturalmente tutti speriamo si possa superare presto. L'iniziativa è importante a supporto di questa nave mediterranea. Domani sera, allora ricordiamo l'appuntamento, intanto sono presenti anche due rappresentanti del... Vorrei presentarle, Stefania, che è il nostro operatore legale all'interno del progetto SPRAR, e Cristina, l'operatore psicologico, psicologa, sempre di questo progetto. Stanno oltre ad essere operatori, ovviamente sono quadri della nostra organizzazione. Sì, l'iniziativa è anche tesa a una raccolta fondi, perché questa iniziativa, ci tengo a precisare, è molto importante, viene finanziata da Banca Etica, che ha dato un prestito per acquisto di questa nave, e quindi adesso bisogna cercare anche di ripagare. E l'occasione, anche questo è importante secondo me, presenteremo, verrà presentata Banca Etica, la stessa Banca Etica, che è una banca formidabile di sostegno all'associazionismo, che in questa città è poco conosciuta, quindi questa è anche un'occasione per conoscere questa realtà.